Eugenio Allegri, attore e regista, è morto all'età di 66 anni. Di riconosciuto talento ha lavorato tra gli altri con Leo De Berardinis, Dario Fo, Gabriele Vacis, Vittorio Franceschi e Leo Muscato. Per oltre 20 anni ha portato in scena sui palcoscenici italiani e europei 900 di Alessandro Baricco, a dare notizie al Teatro Stabile di Torino. Con Eugenio Allegri scompare uno degli artisti più rappresentativi della nostra città e della scena teatrale italiana. Un talento straordinario, professionista appassionato e acclamato, uomo mite e garbato, dichiarano il presidente Lamberto Vallarino Gancia e il direttore Filippo Fonsatti. Nella sua lunga e fortunatissima carriera è sportato in tutta Italia e all'estero il nome del Teatro Stabile di Torino, conquistando anche il pubblico di Londra, Pechino e Shanghai. Nei prossimi giorni presso il Teatro Carignano verrà allestita la Camera Ardente per l'ultimo saluto. Grazie. Grazie.